Ferrari, primo podio con Leclerc nella Baku. Due gradi dietro a Perez. Baku la sprint del GP di Azerbaijan, quarto round del Mondiale 2023 di F1. Ha visto Sergio Perez conquistare la vittoria. Il messicano della Red Bull batte Charles Leclerc. Che regala il primo podio alla Ferrari resistendo al ritorno di Max Verstappen. L'olandese è arrivato al traguardo con la pancia sinistra della sua vettura squarciata dopo un contatto ripetuto con George Russell nelle primissime fasi di gara. Il britannico della Mercedes è arrivato quarto, davanti all'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz. Risultati sprint GP a Azerbaijan Sergio Perez, Red Bull, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull, George Russell, Mercedes, Carlos Sainz, Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin, Luisa Milton, Mercedes, Lancestrol, Aston Martin, Alexander Albon, Williams, Oscar Piastri, McLaren, Kevin Magnussen, As, Ciugueniu, Alfa Romeo, Pierre Gasly, Alpine, Nick De Vries, Alfa Tauri, Nico Hülkenberg, As, Walteri Bottas, Alfa Romeo, Lando Norris, McLaren, Esteban Ocon, Alpine, Autiukizunoda, Alfa Tauri.